Questo è il trasmettore di link, questo è il modulatore con due canali di audio, il canale 1 e il canale 2, uno per la televisione e uno per la radio, e questo è l'inputo di video, questo è l'inputo di video con un cable con il trasmettore, questo è l'inputo di IF, è necessario di collegare questo cable, questa è l'antenne out, questo è il trasmettore completo per link, la frequenza è questa, 2301 MHz, Luciano, switch on the transmitter, questo è l'inputo di livello, e questo è l'inputo di livello per 5W, è molto importante collegare l'antenne prima di switch on the transmitters, è molto molto importante, questo è il trasmettore completo per link, questo equipamento sarà nel trasmettore studio, e questo è il trasmettore, questo è il trasmettore, questo è il trasmettore per l'audio tv, video audio, attività, Questo è il connettore per l'introduzione dell'antenne. Ricordate di connettere l'antenne prima di sviluppare il trasmettere.